Sì, questo volevamo fare il secondo e dopo dopo abbiamo iniziato bene, dopo abbiamo fatto un po' di fatica Sì, è importante fare il primo gol al primo tempo Perché saperemo che in queste partite si va in scena a scena l'entretempo, dopo sono dentro E c'è un po' la possibilità, devi vincere, passano minuti, senti un po' di lanciare per vincere Per questo è importante andare al primo tempo un po' di mataggio E noi abbiamo fatto e per questo lo penso del primo tempo è un punto per fare il secondo per il mio Sì, è una cosa che vince dentro del primo partito prima di andare in mataggio e niente da fare E noi speriamo che vuole fare il secondo punto, la riportazione partita però sapevamo che è la linea che porta a un lavoro difficile E' un po' di lanciare per non fare il secondo punto E' una cosa che vuole fare è lunga Per lui il percorso è lungo, però ti potranno chiedere Questa è stata il 1987, la Coppa UEFA la speranza a tutto il secondo Siamo un po' di l'Europa, ma è importante, ma è lunga. L'Unione è il nostro partito, è quello che va a andare a finali. E ora siamo un po' di forte, ma è una mancanza che non è pensare che siamo un po' di più. Sì, sono molto difficili con loro e speriamo di fare una bella partita mercoledì e potrò portare a questo punto. C'è stata un po' di tensione alla fine, abbiamo trovato il risultato grazie all'intervento di Mer in paese. Sì, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio alla fine per fare il secondo ruolo, abbiamo trovato spazio perché loro alla fine eravamo in attacco e non abbiamo approfittato questo. Non è chiaro che qualcuna occasione dovevano avere, perché in ultimi minuti erano andati il difensore sopra in attacco, erano tanta gente in attacco che qualche palla è pericolosa. Si ha visto che in un calcio angolo avevano potuto fare gol, questo dico che dobbiamo tentare di chiudere prima queste partite. Raul al terzo ha clean shift consecutivo per il Napoli che non subisce gol in campionato a ben 304 minuti e questo è il dato più importante in vista dell'Inter-Napoli. Sì, questo è lo più importante, la fase difensiva non savere gol, ha tante opportunità per vincere dopo la partita, allora dobbiamo continuare così. Il mercoledì è una partita che è difficile e la possiamo dimostrare, la facciamo bene. Ecco Raul, oggi la Curva B con un striscioli che ha chiesto di combattere per la vittoria dell'Europa League. Tu c'eri nel 2015 nella semifinale gol di lupo, questa squadra secondo te è più matura rispetto al 2015 per arrivare fino in fronte in Europa League? Sì, sì, questa squadra ha cresciuto in quel tempo, soprattutto in partiti importanti, in partiti anche europei, per questo te lo dico. Che è sicuro, però questo non ti assicura la rivale, sia in finale o nella finale. Dovevi andare piano piano, come ho detto, sono tante partite dell'Europa lì e non sembra così facile. Noi sappiamo che siamo una squadra forte, però dobbiamo lottare per andare lontano. Raul ti parlava tanto del tuo compagnia di Pasco, di Palincio, di Palincio, di Palincio, di Palincio. La tua valutazione, la compagni di Spagna, qual è? La mia, non lo so, io non mi metto il prezzo. Sono felice neanche per Palincio, perché alla fine non lo faccio. Ho fatto tanto, ho lavorato tanto e che fino a sapere il tuo potenziale, il tuo valore, adesso. Lo posso lavorare da tanti anni insieme e sono felice. Lo faccio il mio lavoro, il migliore possibile e non lo metto il terzo perché non manco il mercato. Raul, l'ultimissima domanda all'Europa lì. Decideri più una semifinale col Chelsea di Sarri o la finale? Tutti abbiamo un affetto che abbiamo a Maurizio. Lo vediamo che è facile non trovarsi, no? È bello, sì, bello una finale, una polizia se tutti la vogliamo. Però, come c'è detto, vogliamo fare la nostra strada prima e dopo vediamo. Perché è facile.